I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno hanno sequestrato a Battipaglia un deposito dove venivano stoccati rifiuti speciali provenienti dall'agronocerino sarnese. Il Briz, come riportato del mattino, è scattato in località Spineta. Secondo le prime indiscrezioni, i controlli eseguiti grazie all'ausilio di un veicolo nel settimo elinucleo carabinieri di Ponte Cagnano hanno consentito di individuare un uomo alla guida di un autocarro di proprietà di un noto impianto di trattamento di rifiuti speciali dell'agronocerino sarnese nella flagranza delle lecite operazioni di sversamento. L'immediato intervento di un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Battipaglia ha consentito di bloccare il camion e denunciare il conducente.